Tutto pronto amici per la prossima di Venus, come si vede dai cartelli, tutto tirato perfettamente lucido per la prossima edizione di questa gara di Monteforte che sicuramente verrà ricordata come la più calda degli ultimi anni. Dopo tutta l'acqua dell'anno scorso, quest'anno ci vi proponiamo di vedere il rovescio della medaglia, caldo toido previsto per domenica come anche quello di questa uscita. Veramente caldo, oggi caldo che tra l'altro non aiuta la mia scarsa condizione del momento. Volutamente scelgo di non forzare oggi, anche se non forzare non significa non faticare. Sto faticando lo stesso pur andando a piano. Questo di certo non è un buon biglietto da visita per la gara di domenica. Ma comunque non importa, per noi amatori della mountain bike tutto questo deve essere solo un momento di aggregazione e divertimento. Poi la prestazione viene sempre in secondo luogo. Frento un po' interromperemo le trasmissioni, visto che mi sto avvicinando a uno dei tratti più impegnativi della prima salita, uno strappo del 20, 28, 30, 32, 100. Anche se a me oggi bastava anche un 5%. Per il momento vi saluto, qua ai piedi di questo lungo strappo che vedete, anteprima lo ha fuoco il 32, 32, che tanto va bene stesso. Un saluto!